il prodotto genius non rappresenta semplicemente un prodotto per la nostra società ma un vero e proprio concetto perché è un vero e proprio concetto perché l'input ricevuto da parte del mercato nel momento dell'ingegnerizzazione era quello di ottenere un input elevatissimo cioè oltre 1000 lumen da un foro di soli 20 mm come era possibile raggiungere questo obiettivo abbiamo disgiunto quella che è la parte hardware che sta all'interno del controsoffitto con la parte elettronica che è installata all'interno del cilindro stesso ad oggi il genius può essere installato su molteplici superfici tanto in un controsoffitto quanto il genius naked il relativo modello può essere installato su legno su marmo su vetro su specchi cioè in qualsiasi tipologia di situazione inoltre offre una vastissima varietà di opzioni sia di forma che di potenza di luce 2700 3000 4000 gradi kelvin molteplici lenti a disposizione e soprattutto la possibilità di essere installato in ambienti interni ed ambienti esterni ip65 o all'interno delle proprie abitazioni